Sterili, sfruttatori e fiduciosi in Dio, Papa Francesco nell'Omelia della Messa a Casa Santa Marta disegna così i tre stili di vita indicati nel Vangelo di Marco. L'albero di fico che Gesù vede rappresenta l'incapacità dell'uomo di dare qualsiasi cosa. La persona, evidenzia il Papa, che non fa niente per aiutare, che vive sempre per sé stessa affinché non le manchi nulla e che alla fine diventa nevrotica. C'è poi il modo di vivere degli affarissi del Tempio, coloro che arrivano anche a sfruttare il luogo di Dio per guadagnare, approfittando della gente. Era un covo di ladri, sottolinea Francesco, ricordando che i sacerdoti facevano riti vuoti senza devozione, utilizzando le cose di Dio per il proprio profitto. C'è poi un ultimo stile di vita che implica la fiducia nel Signore ed è la strada di Gesù. Il stile di vita della fede. Padre, cosa devo fare in questo? Ma chiedere al Signore. Chi ti aiuti a fare cose buone? Ma con fede? Ma solo una condizione? E quando voi vi mettete a pregare, chiedendo questo, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate. L'unica condizione. Perché anche il Padre vostro, che è nei Cieli, perdoni voi le vostre colpe. Questo è il terzo stile di vita. La fede. La fede per aiutare gli altri, per avvicinarsi a Dio. Questa fede che fa miracoli. La fede. La fede. «Dio». La fede.